A posto che nelle discoteche entrano migliaia di ragazzi? Questo è un provvedimento che nasce dai titolari delle discoteche. Oggi ne abbiamo avuti due in conferenza stampa importanti. E quindi c'è anche uno sforzo organizzativo ed economico delle discoteche. Viene nominato un responsabile della sicurezza, che è una guardia giurata, un soggetto comunque murito di una autorizzazione. Quindi anche da parte dei proprietari delle discoteche ci deve essere uno sforzo organizzativo per migliorare la sicurezza. In altri temi la discoteca diventa non un luogo di irresponsabilità, ma un luogo di forte responsabilità e di fortissima responsabilizzazione.